Spese energetiche dalla regione, contributo per 2 milioni di impianti sportivi con piscine. 2 milioni di euro per l'Associazione Società Sportive della Sicilia che gestiscono impianti con piscine, energie ore per sostenere le spese energetiche relative agli anni 2022-2023. Disponibile sul sito dell'IRFIS Fin Sicilia all'avviso per chiedere i contributi a fondo perduto per gli anni 2022-2023, periodo che ha visto l'incremento del prezzo dell'energia dovuto all'invasione russa dell'Ucraina. La dotazione finanziaria è messa a disposizione nella regione siciliana attraverso l'assessorato regionale dell'economia, destinatario del contributo straordinario che sarà erogato da IRFIS ai beneficiari, a condizioni che siano effettivamente disponibili le risorse dell'apposito plafond previsto a valere sul fondo Sicilia. Sono le associazioni e le società sportive delettantistiche scritte in registro nazionale con sede legale o operativa sul territorio siciliano. Tra i requisiti anche l'affiliazione a federazione sportiva, disciplina sportiva o ente di promozione sportiva che per oggetto sociale abbiano anche la gestione di impianti per le attività natatorie. Le associazioni o società devono avere un minimo di 50 tesserati, le piscine devono essere lunghe almeno 20 metri in caso di impianti al coperto, 25 metri per quelli all'aperto. Sono ammissibili dal contributo le spese di energia elettrica, gas e gasolio necessarie al funzionamento e al riscaldamento dell'impianto. Grazie 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 a tutti